Hai avuto una visione di Claire che annegava stamattina e dovevi salvarla. Non stavo salvando Claire, stavo salvando ti. Quando hai sentito Claire gridare in acqua, tu sei annegato per salvarla. Ho tentato, fratelli, ho tentato due volte di salvarti, ma... Per quanto io cerchi di fare, tu morirai, Charlie. Non credi che schiantarsi in questo luogo sia casuale? Siamo stati trascinati qui per uno scopo tutti quanti. Ognuno di noi è stato portato qui per una ragione. Portato? E chi sarebbe stato? L'isola. Il destino. Jack! 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 Jack, smettila, non lo fai! Ma hai avuto un'altra visione, non è vero? Arriverà qualcuno su questo. Se non morirai, questo non si avverrà. Non ci sarà alcun salvataggio. Mi dispiace, fratelli, ma questa volta devi morire. Ammi in cura della banda. Ti voglio bene. Sta attentoci. Sei dentro un bunker, una stanza piena di macchinari. Fai scattare l'interruttore. La luce si spegne. E poi amichi. Per dare un'altra visione. Grazie per la visione